Eccoci, cominciamo i preparativi per quella che sarà una giornata intensa. Non diciamo nulla che viene Beppe Grillo perché così sarebbe troppo facile riempire la piazza. Vediamo come la cittadinanza risponde all'invito fatto da noi parlamentari. Questo è percolato, cioè quel liquido che esce dai rifiuti. Questo continua a uscire dalla discarica di Malagrotta, va nei fossi e quindi poi nel fiume e nel mare. Questo qua invece, idrocarbure, queste due bottiglie, sono il simbolo di 30 anni di mala gestione dei rifiuti e 30 anni di partitocrazia che hanno generato questo. Allora vedi questa è tutta la discarica, no? Vedi quanto è grande? Da come finiscono quegli arbi da là, quello è tutto rifiuto, cioè questo è tutto rifiuto. Ma pure qui sotto c'è stato di tutto, ma c'è la stessa età mia, io c'è la stessa età di Malagrotta. Stefano Mignaroli che è il nostro massimo esperto in tematiche legate appunto alla gestione alternativa dei rifiuti è colui che mi ha introdotto a certe tematiche che io non conoscevo da cittadino e ero totalmente disinformato. Scendiamo, scendiamo. Ecco Mordor. 30 anni che si è delegato al privato perché la politica finanziava il privato, cioè dava dei soldi per fare la raccolta differenziata e per fare il sistema di trattamento. Il privato che ha fatto? Ha preso l'immunizia così come è come ha scelto al secchio e l'ha buttata a Malagrotta perché risparmiava. E più con quei soldi che risparmiava ci si è arricchito e gli ha dati alla politica. Il lavoro del Movimento 5 Stelle è stato quello di aprire i cassetti, scovare gli atti e verificare le irregolarità che abbiamo direttamente girato alla procura perché ormai bypasso proprio il Parlamento. Abbiamo scoperto che sono stati autorizzati degli impianti senza avvertire la cittadinanza proprio il 23 dicembre, sotto Natale, guarda caso. E una volta scoperti abbiamo dato la possibilità ai cittadini di poter fare ricorso. Questo luogo per noi è un simbolo, è un simbolo degli impegni di cittadini comuni che a un certo punto vogliono riappropriarsi della gestione della cosa pubblica e quindi entrano in movimento e spesso e volentieri entrano in Movimento 5 Stelle ed è un simbolo di quell'intreccio che sembrava indissolubile ma che adesso si sta inceppando grazie ai granelli che stiamo sapientemente infilando, quell'intreccio che sembrava indissolubile tra politica e affari. La discaria di Malagrotta è stata chiusa grazie ai cittadini di qua che voglio ringraziare perché hanno portato in Europa e aperto una procedura di infrazione grazie alle segnalazioni di noi cittadini e oggi anche se ci fosse stato il partito dell'amore al governo ma la grotta doveva chiudere perché altrimenti lo Stato italiano avrebbe pagato una multa di 500.000 euro al giorno. Avete capito bene? 500.000 euro al giorno. L'unico aiuto l'abbiamo avuto dalla procura quindi abbiamo dovuto saltare tutta una serie di organi istituzionali che non hanno mai verificato perché noi questo percolato che vediamo oggi l'abbiamo visto in tv nel 2006. Ma questa cosa dell'alluvione era già successa dei rifiuti sparsi nei campi. Nessuno dell'impianto delle raffinerie di AMA aveva chiamato l'autorità competente. Sono stato io, siamo stati due giorni, alla fine sono l'onorevole perché quando chiamo ho detto sono l'onorevole, sono venuti e alla fine hanno sequestrato l'impianto e adesso sono indagati sia le raffinerie che AMA. Noi siamo nati come associazioni sul territorio con attività che facciamo per i vari problemi che nelle nostre città ci appartenevano più che altri e quello continuiamo a essere soltanto con un tema nazionale. Continuiamo infatti ogni weekend a incontrare i cittadini, a andare a lavorare, a partecipare alle iniziative dei vari comitati territoriali, ad esempio penso al TAB in Val di Susa ma tutti i gruppi che abbiamo, ad esempio questi controlli di scarica di Malagrotta che è la tematica che stiamo affrontando oggi. Io sono venuto nei tempi non sospetti, quando il movimento non c'era, se vi ricordate, siamo andati dentro il palazzo della regione con voi cittadini abbiamo portato dei medici, se vi ricordate c'era ancora la buonanima di Marrazzo e Marrazzo non venne, mandò un suo incaricato. Parlavano di incidenze, di tumori e di rispetto alla media, tutti con grafici, tutti i professionisti, dopo l'attività stavo zitto, mi sono messo in un anno. Ventre gli scienziati enunciavano cose, date, diagrammi, numeri, alla fine si è alzato il povero De Carlo e disse una cosa che io ero rimasti folgorato. Non mi dovete romper il cazzo, l'inceneritore ho famo. Così siamo rimasti sbarrati, il professore diceva dove mi è importato? La famosa e vituperata delibera 70, quella a favore dei costruttori, che consente di fare prima i palazzi e poi le opere di urbanizzazione, uno scandalo. Questa delibera l'hanno portata in aula, il PD prevedeva una proroga di sei mesi su questa delibera e invece poi c'è stato un emendamento del PDL Cantiani di portarla a 12 mesi e il PD li ha votato a favore facendo imbestialire l'assessore caudo che è uscito dall'aula. Questo ti spiega qual è il livello anche di intesa che ci sta fra, come al solito, fra PDL e PD-L che dimostrano sostanzialmente di essere la stessa cosa e di rispondere sostanzialmente agli stessi poteri. Ho iniziato la mia esperienza nel Movimento 5 Stelle perché ho vissuto il dramma mostruoso di quella che è stata impunemente definita l'emergenza rifiuti in Campania ma in realtà era il primo banco di prova delle larghe intese con un presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che avallava del PDL, che avallava Bassolino del PD e col sindaco di Napoli, per allora Iervolino, si sono consumate le larghe intese ai danni di 4 milioni di persone. Quelle sono le larghe intese. Noi stiamo assistendo a un tentativo di rubare quello che è l'unico, vero, grande progetto e sogno che può avere un popolo quello di continuare ad essere libero e padrone di se stesso. Questo è quello che sta accadendo questi giorni con delle modifiche che sono passate all'attenzione della gente come l'abolizione delle province. Non è stato abolito niente. Allora perché permettete alla gente di dire in cose in televisione che sono menzogne? Basta andarsi a leggere la legge sulle province. Non c'è nessuna abolizione delle province. Basta andare a vedere le cose. Basta andare a vedere la legge sul lavoro che hanno fatto il lavoro, il precariato assoluto. Questo dissipare tutto il lavoro e le lotte di tuo padre, mio padre, tuo nonno che hanno fatto per cento anni del welfare, sparite così da un cazzoncello che arriva lì a fare le robe. Ma che cosa è? Ma stiamo scherzando? Il welfare è un linguaggio, un pensiero. Togli quello, togli un linguaggio, un pensiero. Gli altri partiti hanno un misto di invidia, indifferenza, prepotenza, dipende dalle persone. Molti esponenti del PD cominciano ad attaccarci in continuazione ma più che altro perché io penso siano invidiosi delle operazioni di trasparenza che stiamo mettendo in atto. Io vi chiedo se avete memoria. Ricordate cos'è successo tre anni fa? Tre anni fa abbiamo vinto un referendum. Abbiamo detto fuori i profitti dall'acqua e fuori l'acqua dal mercato. L'abbiamo detto insieme a 27 milioni di persone. Un milione e duecentomila romani hanno detto che l'acqua deve tornare pubblica. Ci hanno fatto guerra e per due anni hanno fatto silenzio perché quel risultato non se lo aspettavano. Non pensavano di dover togliere le mani dall'acqua. L'acqua è un bene comune. Comune perché sa di comunità e va gestito insieme alle persone. Voi sapete dove vanno a finire i soldi delle vostre bollette? Non lo sanno neanche gli uffici tecnici dei comuni. Ci sono delle quote che voi pagate, che noi tutti paghiamo, che non vengono accantonate ma se le mangiano. C'era una quota che si chiamava remunerazione del capitale investito, cioè profitto che noi abbiamo abrogato, l'abbiamo cancellato dalle nostre bollette e loro continuano a inserirlo all'interno della bolletta. Hanno privatizzato l'acqua nel senso dare a un'autorità garante del mercato la possibilità di definire una tariffa significa metterla praticamente sul mercato. Fanno le leggi, ci mettono dentro qualsiasi cosa. Fanno il femminicidio, dentro ci mettono un condonino per le aziende pubbliche dentro il femminicidio. Oppure ci mettono di nuovo spesa per la gestione del cantiere Tavu. Dentro il femminicidio, loro dicono di no, che non si può votare un decreto così con queste cose dentro e i giornali titolano, gli unici a essere contro il femminicidio sono i gridini del Movimento 5 Stelle. La menzogna, bisogna quotarla in borsa la menzogna. La forza è il gruppo, senza dubbio. Noi arriviamo veramente a alcune sere arrabbiati, incazzati veramente, come anche ieri, le 416 terre che l'hanno smantellato completamente e tu stavi lì e sentivi delle stupidaggini. Allora io vengo da una terra dove gli ultimi due presidenti della regione Sicilia sono stati condannati entrambi per concorso esterno in associazione mafiosa e lo sapevano tutti, lo sapevano tutti e adesso i signori ieri sera in Parlamento mi dicono che non basta conoscere la qualità della persona, cioè non basta sapere che quello è un mafioso per essere condannato. io devo essere sicuro che poi lui ne tragga un vantaggio ma che state a dire? Nella mia città io quando vedo un mafioso giro e me ne vado da un'altra parte e ci vado a cena e ci vado ai matrimoni ma che cosa stiamo dicendo? Il potere non si muove se qualcuno non va a reclamare i diritti è normale che sia così, quindi l'hanno fatto per Ascelabaieva è funzionato per i Marò, è funzionato per tutte quelle azioni di pressione che abbiamo fatto, basta che tu vedi. Noi il 15 marzo siamo stati all'Expo dopo 5 giorni hanno arrestato mezzi responsabili degli appalti dell'Expo tra cui Angelo Rognoni, sembra che si chiamasse, che è responsabile proprio degli appalti. Poi il 26 marzo andiamo a Salerno, il 26 marzo guarda caso il Consiglio di Stato caccia la sentenza per il crescente e lo dichiara illegale. Il 27 marzo andiamo a Reggio Calabria, a Catanzaro in Calabria e esce la sentenza al governatore del Presidente della Regione Calabria che dice che è stato condannato a 6 anni in tradizione perpetua pubblici uffici perché ha falsificato i bilanci. Ma questo sarebbe... io non lo so, non è che è colpa nostra non voglio neanche pensare che portiamo sfiga però questo succede quando c'è una forza di opposizione seria e la magistratura sa di potersi appoggiare su persone oneste cioè è molto molto semplice. Quando ci siamo baciati in aula sulla legge per i diritti LGBT un ragazzo mi schiesse avete fatto fare un salto in avanti all'Italia per i diritti civili di 20 anni noi vi vedevamo veramente ancora come... e invece quando abbiamo visto quella foto abbiamo detto no, Italia, che succede in Italia? M25 Stelle è in assoluto il gruppo politico che ha portato più innovazione nel Parlamento abbiamo fatto tantissime proposte di legge di quelle che noi riteniamo davvero strutturali quindi che era sull'ambiente, di sesso idrogeologico abbiamo fatto per la prima volta una legge sulla compensazione delle cartelle esattoriali per le aziende che mantano credito verso lo Stato legge sul conflitto di interessi, riforma della scuola tutte le proposte già depositate, quindi verificabili perché sono agli atti e quindi le trovate sul sito della Camera ma che ovviamente non vengono prese in considerazione dalla maggioranza per una questione proprio di partito perché non possono darci la soddisfazione e alla fine comunque chi ci perde sono sempre gli italiani che continuano a non avere delle riforme che mi riservirebbero quando vedevo il percolato nei fossi vicino alla discarica vedevo quell'acqua nera e mi veniva in mente una cosa mi veniva in mente il sistema che quell'acqua nonostante sporca rifletteva cioè il sistema che si è creato proprio qui un sistema fatto da imprenditori e politici imprenditori che per far soldi avevano l'appoggio dei politici che a loro volta prendevano soldi per mantenere quei posti di potere e continuare questo sistema assurdo le nostre parole guerriere erano parole che ci vergognavamo di dire nessuno deve rimanere indietro, ti do una mano erano le parole che ci avevamo detto ma ti vergogni oggi di essere buono è molto più semplice essere disonesti che onesti l'onestà ti fai un culo così, vivi con l'ansia vivi quel momento che ti arriva equitare non c'è il bollo della panna di 12 anni fa dove l'ho messo? vivi, il disonesto se ne batte i coglioni, c'è auto commercialisti i boffati, i paradisi fiscali ha già prevenuto tutte le mosse è bellissimo anche vivere in una dittatura dove nessuno è eletto con un voto delle persone che sono tutti nominati è bellissimo, fate tutto voi che cazzo me ne frega è bello perché abbiamo dentro questo masochismo dentro di sessere servili ce l'abbiamo detto, ci piace siamo lì dicendo quello che dobbiamo fare io lo faccio, basta che non mi rompi i coglioni a me io faccio quello che vuoi è comodissimo, è comodissimo vivere in una non democrazia come oggi è comodo, quindi io vi capisco se continuate a votare questi plur continuateli a votare e sarà un'Italia che mi avrete voluto voi ringrazio Stefano Vignaroli che è un grande esperto di questa tematica e sono felice infatti che vada nella commissione bicamerale per la gestione dei rifiuti c'è questa cosa proprio il fatto che io grazie a Stefano abbia capito qualcosa in più è esattamente quel concetto che noi cerchiamo sempre di diffondere quello che è il concetto di rete cioè noi riusciamo a essere veramente efficaci come cittadini e come cittadini e le istituzioni se riusciamo a scambiarci informazioni e essere rete questo è quello che stiamo facendo la differenza reale tra ciò che ci hanno tramandato i vari politici tra ciò che era la politica prima di noi perché forse non passa bene ancora questo messaggio per via della mistificazione mediatica ma la rivoluzione che stiamo creando è già in atto ed è quella proprio dell'esistenza di un gruppo come noi che è totalmente fuori dal sistema che ne stravolge le logiche la rete che stiamo creando è proprio quella la rete dei cittadini che si informano e stanno a affrontare direttamente le problematiche territoriali ma poi su larga scala fino alle europee dove oggi avete visto sono usciti i candidati e là arriveremo ancora una volta a cambiare di nuovo le cose a rimettere in discussione tutto ognuno di noi qua ama le istituzioni io amo il Parlamento io amo il ruolo del Presidente della Camera amo il ruolo del Presidente del Senato amo il ruolo del Presidente della Repubblica ma nel momento in cui mi accorgo che questi tre scranni sono rappresentati da persone su cui ci sono grandissimi dubbi trattativa Stato-mafia il fatto di aver distrutto delle intercettazioni allora mi rendo conto che se questi ruoli sono presieduti da queste persone che sono persone indegne di rappresentare tutto il popolo italiano come dovrebbero fare allora queste persone devono sistematicamente andare a casa dobbiamo capire che non può funzionare così e noi lo stiamo già facendo dal primo giorno che siamo entrati alla Camera abbiamo iniziato ad annunciare quando c'erano dei deputati che avevano dopo in carico sia sindaci che deputati abbiamo sfiduciato sottosegretari, viceministri, i ministri la De Girolamo se non avessimo fatto pressione non sarebbe mai andata via quindi vedete, siamo partiti dai deputati sottosegretari, viceministri, ministri ora insieme dobbiamo fare uno scalino un pochino un po' più alto non si possono sfiduciare queste tre cariche però si può chiedere le loro dimissioni e possiamo chiedere insieme le dimissioni dalla Presidente della Camera perché la ghigliottina è stata la dimostrazione che è incompetente non lo diciamo noi io lo sto dicendo perché la Corte dei Conti ha detto che ha aperto un'inchiesta per verificare quanti miliardi siano stati regalati alle banche con il decreto IMU Banca Italia la Corte dei Conti 80 euro in busta paga vuol dire che è il voto di scambio è offensivo per una famiglia anche se a poco è offensivo dargli una pizza per il voto è questa la gente e voi state legittimando della gente che mente, mente, spudoratamente davanti alle vostre domande Renzi è il nostro nuovo Berlusconi io credetemi il giorno che veramente abbiamo buttato fuori Berlusconi dalle istituzioni ho pensato che l'Italia aveva fatto un passo avanti aveva comunque dato un segnale forte l'ingresso di Renzi all'interno del nuovo panorama politico è agghiacciante il PD e il PDL hanno sancito la loro unione mettendo a capo un presidente del Consiglio che li rappresenta perfettamente entrambe il volo della Brambilla vi posso dire solo una cosa che ad oggi non si sa che cosa è andata a fare sappiamo che l'elicottero portava nella località dove lei risiede ma non siamo arrivati alla possibilità di definire se la sua giustificazione è reale, fondata o campata in aria perché la camera PD compreso ha votato perché l'autorizzazione al procedere non venisse negata però è chiaro che quando un ufficio autorizza 7 mila euro di spesa dovrebbe fare un'istruttoria seria e capire perché stai andando a spendere quelle 7 mila euro in questa maniera quando a un cittadino poi per l'invalidità civile gli fai le pulci e allora il problema è questo che siccome questa gente è abituata a sperperare per loro non è un problema sperperare 7 mila euro più, 7 mila euro meno qual è il problema? per loro non c'è problema in un anno vi rendete conto di quel che abbiamo fatto? ma se me l'avessero detto che dopo un anno vicepresidente di una commissione il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, 27 anni il vicepresidente della commissione bilancio Giorgio Sorial che è lui che insieme agli altri colleghi che hanno scoperto lo scandalo dei lobbisti in Parlamento occhio, oggi ci stiamo noi e qualcun altro adesso entrerà nel Parlamento europeo ma i prossimi siete voi cioè bisogna riuscire a raccendere un sogno fondamentalmente per riuscire a vincere questi europei che sono fondamentali e il movimento già lo incarna perfettamente oggi ci stiamo noi in Parlamento a portare avanti delle battaglie in trincea ma sappiamo perfettamente due legislature e poi a casa che entrerà qualcun altro uno si interessa della cosa pubblica come tutti i cittadini dovrebbero fare poi magari come il servizio militare uno presta servizio nell'amministrazione per il bene comune e poi torna a fare quello che faceva prima allora questo il Movimento 5 Stelle è una chance che noi non possiamo perdere noi andiamo in Europa, vinciamo e a questi arroganti, delinquenti li mandiamo via e ci riprendiamo quello che ci appartiene il nostro paese, la nostra libertà e la nostra dignità la politica è progettare le cose, l'economia noi spendiamo e usufruiamo 100 miliardi di tonnellate di roba ogni anno 100 miliardi di tonnellate che caviamo per fare oggetti, 100 miliardi e nell'arco di 8 mesi questi 100 miliardi vanno in un generitore, una discarica in mare e nel circuito alimentare, nel circuito alimentare non sparisce nulla o bevi o mangi o respiri quello che pubutti lì ritorna tutto lì, è l'ambiente allora cos'è l'ambiente? mi sembra di essere tornata 20 anni fa l'ambiente non è il bosco, qualcosa all'esterno di te l'ambiente è quello che hai dentro, i tuoi filtri, bronchi, polmoni, il fegato e c'hai solo quello di ambiente e se non proteggiamo quello è finita e allora ecco, ecco, lavoro, l'inceneritore è lavoro, la discarica è lavoro chiudere l'azienda è lavoro, cavare il carbone è lavoro il lavoro è il più grande ricatto di questo secolo noi non abbiamo questo lavoro questo lavoro questo lavoro sta scomparendo diminuirà sempre di più diminuirà sempre di più la crescita la crescita più frigoriferi, più macchine, più cose non è vero che crea posti di lavoro li toglie perché c'è l'innovazione, c'è l'automazione c'è la produttività è un altro concetto c'è gente, molta gente che è convinta di avere un posto di lavoro non è un posto di lavoro ha un posto di reddito è il reddito che ti inserisce, ti disinserisce dalla società ecco perché nel nostro primo punto nel programma abbiamo reso il reddito di cittadinanza perché se un'azienda chiude, che chiuda è il libero mercato ma non devono chiudere le famiglie il nostro è un pensiero è un pensiero di un mondo è un pensiero, il movimento è un pensiero non è un movimento politico mettetevelo in testa non devi votare Grillo, non devi votare nessuno devi votare un'idea come se andava a votare il PC ve lo ricordate? il grande PC non votava in atta votava un'idea di mondo votava un festival dell'unità dove andavi a friggere dove uno aiutava l'altro dove c'era un senso di comunità era quello il mondo della vecchia sinistra poi è fallito, è fallito perché si vede che doveva fallire come è fallito il capitalismo perché il capitalismo che funziona oggi è solo quello cinese perché sopra ci sono i maoisti pensa come si sono ridotti i maoisti Mao, la grande riforma di Mao è diventata la Cina la più grande forma di capitalismo del mondo si rivolterebbe nella tomba diventiamo come i greci otto condomini su dieci vanno a carbone, vanno a legna staccano la luce perché se non paghi le tasse sulla casa staccano la luce ci faremo gestire da una multinazionale come Sudafrica come nel resto del mondo ce la faremo gestire qui la nostra elettricità in cambio di una prepagata prima paghi, appena scaduto il credito stacco che cosa facciamo? non lottiamo per queste cose che cazzo dobbiamo lottare? per che cosa? per chi? alla prossima Grazie.